Il Consiglio Comunale di Reggio dopo l'IRPE fa prova all'aliquota IMU aumentando la tassa. La prossima settimana si vota il bilancio tra una pioggia di emendamenti. Quarantenne disoccupato si reca in municipio affermando di volerla fare finita. Una telefonata del sindaco Graziano del Rio lo tranquillizza. Inizia un'altra fase per Copomuratori Reggiolo. Restano le preoccupazioni di creditori e soci prestatori ma Lega Copra assicura. Chiusi i voti sulle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego. La CGL vince ancora ma anche CISL, UIL e sindacati di base cantano vittoria. Esplode una caldaia in un cantiere nella notte a Guastalla. Paura tra la gente ma nessun ferito. Mercoledì 14 marzo, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo delle decisioni del Consiglio Comunale in merito alle nuove tasse locali. Ebbene il Consiglio Comunale ha approvato queste nuove tasse non però senza polemiche. E sentiamo tutti i dettagli in questo servizio di Gianfranco Parmigiani. La fase 1, l'approvazione del nuova tasse locali è lasciata sul campo a spaccature interne ai partiti e veleni tra le opposte coalizioni, attuali o ex. La fase 2, l'approvazione del finale del bilancio preventivo 2012 è da aggiornarsi alla prossima settimana. Per oggi può bastare. Dopo l'approvazione di un IRPEF senza la correzione della progressività, cioè delle differenze tra fasce di reddito, ieri sala Tricolore ha approvato anche le aliquote IMU con un risultato più netto. A favore ha votato la maggioranza più il gruppo Riva, contro invece tutte le opposizioni più i gruppi civici. Fate salve le tabelle del sole 24 ore che indicavano Reggio, tra i capoluoghi di provincia italiani che avevano deciso di aumentare la tassa sugli immobili, senza raggiungere però il tetto massimo. Le aliquote 2012 nel Comune di Reggio saranno queste. Prima casa, abitazione principale 5 per mille. Aliquota ordinarie su altri mobili, fabbricati, terreni, arre fabbricabili 9,6 per mille. Abitazioni a canone concordato 7,6 per mille. Immobili incomodato gratuito 8,6 per mille. Sfitte da più di due anni 10,6 per mille e fabbricati rurali infine 1 per mille. Il Comune di Reggio aumenta, ma si tiene sotto alle aliquote massime possibili per legge, ovvero 6 per mille per l'abitazione principale e 10,6 per mille per gli altri mobili. Qualcuno in fase di discussione aveva anche cercato di far passare inutilmente uno sconticino per la prima casa. Intanto restano sul tappeto le code velenose, dicevamo, dopo il caso IRPEF, un PD spaccato, con alcuni consiglieri che avevano votato a favore di una tassa progressiva per fascia di reddito e i comunisti che hanno annunciato l'uscita della maggioranza. Ora resta lo scoglio dell'approvazione finale, probabilmente la prossima settimana, anche se il termine è ultimo e fine giugno, con una raffica di emendamenti e ordini del giorno che attendono al Varco i lavori del Consiglio. Ecco, restiamo in piazza Prampolini per segnalarvi una vicenda di tutt'altro tenore avvenuta oggi pomeriggio. Un quarantenne reggiano disoccupato da poco tempo ha minacciato nel pomeriggio di lanciarsi da uno dei terrazzini del palazzo di municipio appunto in piazza Prampolini. L'uomo è entrato nella sala delle ghirlande e pochi istanti dopo si è affacciato verso la piazza scavalcando la balaustra davanti alle dipendenti comunali. Intanto sul posto sono arrivate tutte le forze dell'ordine, sono stati chiamati anche i vigili del fuoco. Per fortuna però nel giro di pochi minuti l'uomo ha cambiato idea. Il capo di gabinetto Maurizio Battini infatti è riuscito a instaurare un dialogo con il quarantenne facendolo desistere dal gesto estremo. E poi l'ha telefonata con il sindaco Graziano Del Rio fuori reggio per impegni politici. Alla fine il disoccupato fortunatamente ha abbandonato il terrazzino rientrando nella sala delle ghirlande. Si rivolgerà ai servizi sociali. Ed ora voltiamo pagina. È iniziata una nuova era per la cooperativa Muratori Reggiolo. L'assemblea dell'altra sera ha confermato ufficialmente la crisi finanziaria della storica azienda. Restano le preoccupazioni di creditori e soci prestatori. La parola d'ordine resta evitare di mandare all'aria una storia lunga 105 anni. Il caso della cooperativa Muratori Reggiolo l'ha svolto o almeno lo è stato con la richiesta del concordato preventivo per poter uscire da una situazione finanziaria molto grave di cui si parlava da tempo ma che per ovvie ragioni si cercava di tenere a riparo dall'opinione pubblica. Guai infatti a diffondere panico tra i soci soprattutto tra quelli titolari del libretto di risparmio di CMR. Sarebbe stata inevitabile l'emorragia di risorse con rischio di aggravare il problema di cui si è parlato ufficialmente solo lunedì sera nell'assemblea con i vertici della vecchia CMR e quelli della futura CMR Dile, i vertici provinciali e regionali di Lega Copp, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, ma soprattutto alla presenza di centinaia di soci entrati nel grande salone del centro polivalente reggiolese con tanti dubbi e usciti dall'assemblea con in corpo un po' di rabbia in più, soprattutto per quella che è stata considerata da molti come una scarsa trasparenza sui problemi di cui si sentiva parlare ma mai in modo ufficiale, almeno fino a lunedì sera. Il piano di recupero del prestito prevede un rimborso del 100% ai soci privilegiati, del 95% ai prestatori e via via calare per gli altri. Si spera poi nella nuova CMR Dile, affidata alla presidenza di Luca Bosi, pronto a lasciare il suo posto di assessore comunale a Luzzara. Mentre piovono le critiche politiche non solo interne al PD ma anche dal PDL che pone molte domande ai vertici del mondo cooperativo, domande sulla separazione del ramo industriale di CMR ma anche su trasferimenti di debiti bancari. Ed ora parliamo di una visita, una visita importante che avrà luogo venerdì prossimo e che riguarderà proprio la nostra città. Venerdì 16 marzo sarà infatti a Reggio il capo della protezione civile, Franco Gabrielli. Ospite della provincia, Gabrielli incontrerà nella sala del Consiglio la Presidente Sonia Masini, il Prefetto Antonella De Miro, i sindaci, gli operatori e i volontari della protezione civile. Emergenze, come prevenire, come intervenire è questo il tema che sarà al centro di questo incontro. L'incontro servirà tra l'altro inoltre a fare il punto sul sistema di protezione civile nella nostra provincia. Ed ora parliamo di pubblico impiego. Si chiude la conta delle rappresentanze sindacali. Ogni sigla afferma il proprio aumento. Ce ne parla in questo servizio Isabella Trovato. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego si sono concluse con soddisfazione per ogni sigla. Dalla CGL alla CISL, dalla UIL ai sindacati unitari di base. L'USB, che all'Inps di Bologna e Ferrara è il primo sindacato, ha spuntato nuovi seggi anche alla sede reggiana dell'Istituto di Previdenza Sociale, registrando un incremento di voti. Così anche nel palazzo della provincia. Ha confermati delegati alle agenzie delle entrate, in dogana, in procura e ha eletto candidati anche dove si presentava per la prima volta, cioè all'ARPA, all'USL, al comune di Reggio e nella scuola. Strappa un successo anche la UIL con la nomina di Giussi Cittani all'azienda sanitaria locale con 77 preferenze. 67 all'ospedale di Montecchio, superando la CGL. In pole position su tutto, resta proprio la Camera del Lavoro di Reggio. La CISL, tuttavia, tiene tessa la CGL. Sulla sanità, ad esempio, il sindacato di Via Turri ha portato a casa 1.149 voti, 90 in più. Al Santa Maria Nuova ha guadagnato 34 voti in più, totalizzandone 550. Per la CGL, che ha 14 seggi, i voti sono stati 632. Per la funzione pubblica CISL sono stati positivi anche i risultati negli enti locali, dove ha raccolto 801 voti, 41 in più rispetto alle precedenti elezioni. A farla da padrona nella scuola è la CGL, che riporta a casa il settore vinto nel 2006 dalla CISL. E intanto CGL Provinciale ha fornito il consueto quadro della crisi attraverso l'uso degli ammortizzatori sociali. A febbraio sono stati 1.250 in meno rispetto a gennaio i lavoratori che ne hanno fatto ricorso. La diminuzione riguarda in particolare la cassa integrazione ordinaria, ma è sempre alto il numero di persone coinvolte nella sospensione del lavoro, sono infatti più di 10.000. Ed ora andiamo a Guastalla e ritorniamo alla cronaca per l'occasione. Lo scoppio di una caldaia in un cantiere ha fatto temere il peggio ieri sera in pieno centro della cittadina. Ma sentiamo tutto da Antonio Lecce. Primo uno scoppio, poi l'uscita di una specie di polvere che ha fatto pensare al fumo. Tutto nella prima serata di ieri in pieno centro storico a Guastalla. Subito si era temuto l'esplosione con incendio. Invece si trattava più semplicemente del cedimento di una parte dell'impianto di una caldaia usata approvisionemente in un cantiere aperto per la ristrutturazione di un edificio in via Mentana all'incrocio con la centralissima via Gonzaga. Pochi minuti prima dell'evento è scattato l'allarme a carabinieri e vigili del fuoco quando alcuni passanti hanno sentito prima il gran botto e poi visto questa specie di fumo che usciva dall'area del cantiere. In quel momento in zona c'erano numerose persone, soprattutto commercianti e impiegati che a fine lavoro uscivano da negozi e uffici per tornare a casa. Attorno al cantiere si è formato un capanello di persone. Da subito si è chiarito che nell'edificio, ancora in fase di ristrutturazione, non doveva esserci nessuno. Ma è stato solo all'arrivo della squadra del 115 che si è capito di cosa si trattava. In pratica era il cedimento di una vasca per la pressione dell'acqua nella caldaia che ha provocato lo scoppio e la fuoriuscita dell'acqua che era all'interno del contenitore. La pressione ha fatto sollevare polvere e cemento che erano appena sotto. Con la nuvola grigia uscita dall'edificio che ha dato l'impressione che si fosse sprigionato un principio d'incendio. Dopo i controlli eseguiti insieme ai carabinieri della caserma di Gualtieri, la situazione è tornata sotto controllo e il cantiere è rimesso in sicurezza. Una discarica a cielo aperto a Villa Gaida in via Casell di Ferro è la denuncia di un agricoltore stanco di dovere pulire cumuli e cumuli di rifiuti. Vediamo. Lo scorso anno ha dovuto liberare il canale da una sessantina di batterie per veicoli a motore e quest'anno invece deve ripulire via Casell di Ferro a Villa Gaida dai rifiuti scaricati abusivamente da imprese edili. Protagonista a suo malgrado di questa vicenda è l'agricoltore Ivano Pedrotti nella frazione della Valdenza a campi di erba medica. Nel 2011, quando i canali si sono riempiti d'acqua per l'irrigazione delle terre, ha dovuto provvedere con urgenza a rimuovere i rifiuti abbandonati per consentire fluire delle acque. Stanco di una storia che si ripeta annualmente, Pedrotti ora litiga con cocci di bottiglie di vetro, rottami e scarichi vari e alla fine l'agricoltore lancia un appello proprio a chi utilizza la strada come una discarica. Ma in questa via, via Casell di Ferro si chiama, è un continuo scaricare immondizie di tutti i generi, come l'anno scorso ho trovato un trivisore, un frigo, dei mobili, carta, poi non se ne parla, sacchetti delle immondizie di casa non si contano. Ma noi chiediamo soprattutto alla cittadinanza che siano un po' più civili rispetto delle persone e del territorio soprattutto. Poi abbiamo tutte le isole ecologiche che ritirano qualunque cosa, non capisco il motivo che, o forse per comodità, passano con la macchina e buttano fuori dal finestrino. E dopo la denuncia che abbiamo sentito insieme, il momento della pubblicità e tra poco ci vediamo per la seconda parte del telegiornale. Siamo pronti per ripartire con il telegiornale, prima però rivediamo insieme il riepilogo di oggi. Il Consiglio Comunale di Reggio dopo l'Irpe fa prova all'aliquota IMU aumentando la tassa. La prossima settimana si vota il bilancio tra una pioggia di emendamenti. Quarantenne disoccupato si reca in municipio affermando di volerla fare finita. Una telefonata del sindaco Graziano Del Rio lo tranquillizza. Inizia un'altra fase per Copomuratori Reggiolo, restano le preoccupazioni di creditori e soci prestatori, ma Lega Copra assicura. Chiusi i voti sulle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego, la CGL vince ancora, ma anche Cisle, Will e sindacati di base cantano vittoria. Esplode una caldaia in un cantiere nella notte a Guastalla, paura tra la gente ma nessun ferito. Ritorniamo insieme con il nostro telegiornale per segnalarvi un furto notturno che ha avuto luogo all'uni euro di correggio. L'ipermercato è stato visitato da una banda di ladri che ha infranto le vetrine di alcuni negozi e rubando soprattutto tecnologia informatica per danni di alcune migliaia di euro. Ed ora cambiamo argomento, parliamo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. È stata oggi depositata la lista numero uno. Ci illustra il tutto Federica Galli. Nella conferenza stampa di qualche tempo fa come coordinatore della lista BPR avanti abbiamo annunciato o annunciato le candidature di sette consiglieri per l'elezione alla prossima assemblea che si trarà il 21 aprile in prima convocazione, il 21 aprile in seconda convocazione e oggi è l'atto formale di deposito a seguito del consiglio di amministrazione che è stato venuto ieri alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, dove queste liste con questi candidati che come vedete ho il curriculum allegati secondo la normativa di Consul e Manca Italia diventano di fatto nominativi immodificabili. Quindi sono le persone che presenterò in assemblea, sono le persone che si troveranno il sottoscritto come colui che all'assemblea proporrà la loro candidatura al corpo sociale ed è una lista che riveste una particolare importanza perché è la lista del presidente, Ettore Caselli, è la lista che vede il dottor Romano Minozzi che è questo elemento di novità come importante imprenditore che entra in consiglio, mi auguro che questa lista venga chiaramente eletta il dottor Zucchelli è un candidato importantissimo che era già membro del consiglio di amministrazione assieme al dottor Boldrini, all'ingegner Cicognani, a una persona, una donna, un avvocato di Ravenna che si chiama Masperi, una novità, sarà una new entry nelle quote rosa di questa banca e a ragioni aggiusti. Oggi non presento la lista del collegio sindacale perché le normative che regolano questa complicatissima gestione di elezioni nell'ambito del sistema bancario prevedono che il termine sia di 30 giorni per la presentazione del collegio sindacale non prima di 30 giorni della data dell'assemblea. Ed ora noi ritorniamo alla cronaca. Già arrestato in passato per furti con spaccate un ventenne di reggio è tornato in carcere per spaccio di droga. È accusato dai carabinieri di rifornire di roba a un gruppo di coitanei di Albinea. Ieri è stato affermato dai militari lungo via Emilio Spizio e aveva addosso delle confezioni di marijuana. E ancora cronaca, i vigili del fuoco della montagna sono stati impegnati per ore nello spegnere le fiamme di un incendio divampato in un vecchio fabbricato agricolo in via Forbici di località Case di Civago. Il rogo è scopiato per cause accidentali. Ed ora andiamo a Casalgrande. Il Comune è al lavoro per la definizione del piano urbano della mobilità. Uno studio approfondito sarà realizzato nei giorni prossimi grazie a delle sofisticate apparecchiature. Lungo tutte le principali strade del capoluogo saranno infatti posizionate delle telecamere per calcolare il numero e il tipo di veicoli che ogni giorno e a tutte le ore attraversano il territorio. Nonostante la somiglianza si evidenzia comunque che tali apparecchiature non costituiscono rilevatori della velocità autovelox, bensì strumenti tecnici di conteggio dei flussi veicolari. Cambiamo completamente argomento. Il campionato mondiale dell'improvvisazione teatrale sbarca anche nel Reggiano. Questa sera al teatro di Cade il Bosco Sopra una sfida tutta da ridere. Sentiamo. Prendi due squadre di attori fornisce a sorpresa alcune parole e i relativi argomenti per dar vita allo spettacolo e l'improvvisazione teatrale un tipo d'arte comica che si sta diffondendo un po' ovunque raccogliendo consensi anche dalle nostre parti. Tanto che l'Italia è stata scelta per ospitare i campionati del mondo di questa specialità con una tappa proprio nel Reggiano stasera al teatro di Cade il Bosco Sopra con inizio alle 21. La sfida sarà tra una delle due squadre italiane che ospita la manifestazione ha pure una formazione bis e l'Argentina. La finale sarà poi domenica prossima al teatro di Botticino nel Bresciano. Sei le squadre in gara oltre agli italiani e all'Argentina partecipano anche Spagna, Francia e Regno Unito. Tra gli attori reggiani impegnati in questa manifestazione anche Maria Antonietta Cento Ducati, Daniele Ferrari e l'arbitro Roberto Rocchi. La scuola reggiana in Propongo le Grammelò è tra le principali realtà di improvvisazione teatrale d'Italia. È nata nel 1999 e conta 260 componenti tra allievi, amatori e professionisti. Propone spettacoli, stage e percorsi formativi a tutti i livelli. Due squadre su un palco allestito come un campo da occhi che si sfidano improvvisando su temi dati dal pubblico. A vigilare su di loro un severo arbitro e dopo ogni improvvisazione il pubblico che vota la squadra che ha meglio improvvisato. Prima della pubblicità vi segnaliamo che domani sarà effettuato un intervento sulla rete idrica a Brescello. I lavori dureranno dalle 7 di domani mattina fino alle 18. Dunque non si possono escludere cali di pressione nell'erogazione dell'acqua potabile nel comune ricordiamo di Brescello. Ci fermiamo per qualche minuto. Teletricolore Meteo Il Meteo è offerto da Da otton letto per tutto il mese, liquidazione totale per rinnovo locali fino ad esaurimento scorte. Per voi oltre 200 letti a prezzi scontatissimi in offerta da 300 a 500 euro. Previsioni del tempo su Reggio per domani giovedì 15 marzo. Al mattino cielo velato per nubi alte. Nel pomeriggio in pianura sereno sui rilievi cielo velato per nubi alte. Dalla sera sereno. Le temperature saranno comprese tra i 4 e i 21 gradi. Teletricolore Meteo Il Meteo è stato offerto da Otton Letto vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Cortetegge di Reggio Emilia. Otton Letto vi attende anche nel nuovo centro Materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. In chiusura alcuni appuntamenti. Al via da domani il programma di iniziative per tornare a riflettere sul connubio tra immaginazione e logica che dagli anni 70 ha fatto di Rodari un punto di riferimento per la realizzazione del Reggio Approach. Venerdì al Teatro Ariosto un seminario al quale parteciperanno tra gli altri Paolo Rossi, Vinicio Caposela e Roberto Denti. Domani mattina c'è un interessante incontro. Nuovi agricoltori in cerca di futuro, collaborazioni e passaggi generazionali. L'appuntamento è alle 9.15 di domani mattina alla Cantina Albinea Canali. E domani invece pomeriggio alle 16 nella sala Grasselli dell'ente camerale in piazza della Vittoria un incontro avente per tema finanziamenti per marchi d'impresa, un seminario in Camera di Commercio. E tutto per la pagina degli appuntamenti. Rivediamo insieme al riepilogo. Il Consiglio Comunale di Reggio dopo l'IRPE fa prova all'aliquota IMU aumentando la tassa. La prossima settimana si vota il bilancio tra una pioggia di emendamenti. Quarantenne disoccupato si reca in municipio affermando di volerla fare finita. Una telefonata del sindaco Graziano Del Rio lo tranquillizza. Inizia un'altra fase per Copomuratori Reggiolo. Restano le preoccupazioni di creditori e soci prestatori, ma Lega Copra assicura. Chiusi i voti sulle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego. La CGL vince ancora, ma anche Cisle, Will e sindacati di base cantano vittoria. E esplode una caldaia in un cantiere nella notte a Guastalla. Paura tra la gente, ma nessun ferito. È davvero tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Auguriamo tutti voi una buona serata. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS